E' un po' il segno dei tempi. Dopo l'idea del bonus di 80 euro di Renzi saranno le lezioni anticrisi quelle del prossimo 25 maggio. In una decina di comuni baresi i seggi saranno presidiati esclusivamente da disoccupati iscritti al centro per l'impiego e da studenti non lavoratori che potranno guadagnare qualche euro come scrutatori. A fare da apripista questa iniziativa sono state le amministrazioni comunali di Terlizzi, Barletta e Modugno. Un esempio seguito a ruota anche da Mola di Bari, Trigiano, Polignano, Sanicandro e Gioia del Colle. Il classico sorteggio casuale tra gli iscritti agli albi comunali questa volta sarà corretto dal parametro della disoccupazione, proprio per avvantaggiare le fasce reddituali più deboli. Un tentativo di solidarietà sociale che però non è stato colto dal capoluogo pugliese. A Bari il sorteggio resterà assolutamente aleatorio, senza badare alla condizione occupazionale.